1-0 Como Bari è un confronto diretto per la retrocessione quindi da vincere a tutti i costi ma la fortuna non è amica dei nostri che passano con un'autorete di sclosa sul calcio piazzato di Dirseo poi due pali fermano così il brasiliano e Rideout con questo tiro dal limite fissa il risultato sull'1-1 Fissa che...